salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con l'autelivo oggi proviamo a far volare l'autelivo in valsassina ci troviamo precisamente a pasturo stiamo facendo la ciclabile con le mountain bike oggi abbiamo noleggiato per la prima volta la mountain bike a pedalata assistita devo dire che è una figata esagerata è questa è una figata esagerata andiamo andiamo quindi adesso troviamo una location per fare decollare l'autelivo e proviamo a fare un qualche ripresa per vedere come la fotocamera di questo secondo me fantastico drone quindi ragazzi adesso senza quasi neanche che pedalo perché veramente con questa mountain bike non c'è neanche bisogno di pedalare troviamo una location e decolliamo salutate tutti gli iscritti ciao abbiamo trovato la location per fare un primo volo con l'autelivo abbiamo parcheggiato le bici pedalata assistita che non le avevo mai provate ma sono una figata esagerata dopo magari cambiamo location per fare altri pezzi di video intanto ci fermiamo qua e magari facciamo anche una merenda anzi loro stanno già mangiando andiamo 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 Grazie a tutti. 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 Bicicletta pedalata assistita devo dire sono veramente eccezionali, fatica zero, strada tanta, quindi ragazzi se anche questo volo con l'autolivo vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video e ci vediamo ovviamente nei prossimi video, ciao!